Sì, Onorevole Bergamini. Sull'ordine dei lavori. Poche ore fa il leader di un movimento che ha suoi rappresentanti seduti in questo Parlamento ha attaccato duramente alcuni parlamentari ed ex parlamentari, definendoli padri puttanieri della patria. Ora, io e sicuramente non solo io ho apprezzato moltissimo la prontezza e la fermezza con la quale lei ieri ha difeso e tutelato l'onorabilità del Parlamento a seguito delle parole dell'ex assessore regionale siciliano Franco Battiato. Le chiederei pertanto proprio in ossequio al principio che lei giustamente ieri ha portato avanti, ovvero che ogni critica è legittima e deve essere rispettata. E certo non è questo Parlamento ad avere paura delle critiche, ma non deve sconfinare nell'insulto. Le chiedo pertanto di mostrare analoga fermezza, analoga prontezza nel difendere l'onorabilità di questo Parlamento anche in questa occasione. Grazie.